Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia ha intensificato gli interventi di prevenzione e repressione della contraffazione, dell'abusivismo commerciale e delle altre forme di illegalità. Le attività di controllo del territorio vedono impegnati i finanziari di tutti i reparti della provincia d'Auna. Sono stati eseguiti circa 50 interventi conclusi con il sequestro di quasi 3.000 prodotti contraffatti venduti al dettaglio e oltre 22.000 articoli pericolosi per la sicurezza e la salute, 40 i responsabili segnalati dalle fiamme gialle. Tra le amerce in sequestro i finanzieri hanno rinvenuto capi di abbigliamento, pelletteria, calzature sportive, occhiali e bigiotteria, giocattoli, recanti, marchi contraffatti, falsa indicazione made in Italy, ovvero non in regola con l'obbligo di marcatura CE. In alcuni comuni dell'area garganica sono stati individuati alcuni commercianti privi dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività. Nei loro confronti sono state errorate sanzioni per 35.000 euro.